presentato in collaborazione con Catiuscia, abbigliamento per bambini, vendita all'ingrosso. Partita è difficile, ostica e pronta a cambiare in corsa. Proviamo ad anticipare alcuni temi tecnico-tattici di ciò che vedremo in campo domani a Verona. Il Catania ritrova la luce Lodi e la lampadina Barrientos e Maran schiererà il 4-3-3 con Andukar tra i pali. Alvarez, Bellusci, Spogli e Marchese in difesa. Centrocampo a tre con Izco, Lodi e Biagianti e poi il tridente Barrientos, Bergessio e Gomez. In Casachievo Corini non si affida al 3-5-2 ma lancia una formazione d'attacco. 4-3-1-2 per la formazione veronese con Pugioni tra i pali, poi sugli esterni Sardo e Frey, Andreoli e Cesari centrali di difesa. Centrocampo a tre con Guana con Rigoni e Cofi come mezza alla sinistra e poi Semior nell'inedito ruolo da trequartista alle spalle delle due punte. Terro e Pellissier. Maran con Gomez e Barrientos dovrai saltare l'uno contro uno, saltare l'uomo per aprire spazi. Gomez contro Sardo può andare a nozze, Barrientos può portare a spasso Frey. E lo stesso Pitu proverà ad saltarsi tra le linee per aprire spazi per Izco che dovrà aggredire lo spazio di destra e Bergessio e Gomez mobili per aggredire la linea difensiva avversaria. Marchese sarà l'uomo in più nella spinta per dare il due contro uno sul lato di Sardo. Attenzione perché Lodi sarà guardato a vista da Semior, viene messo lì da Corini per cercare di lenire la luce del Catania. Biaggianti dovrà aiutarlo molto per non lasciarlo solo. Attenzione al Chievo, il vecchietto Pellissier è sempre temibile, non dà punti di riferimento ed è letale. Terò con la falcata e la tecnica sfrutterà i corridoi. Sardo proverà a spingere con Seymour che era in la mina vagante. L'uomo in più della partita arriverà dalla panchina. Potrebbe essere Lucas Castro sia come Mezzala nel 4-3-3 per aggredire lo spazio centrale sia col 4-2-3-1 per essere la spalla ideale di Bergessio. Senza dimenticare le palle inattive, Lodi e Spolli sul lato a Catania, Andreoli, Cesare e Terò in quello Clivenze.